Ciao a tutti nuovo video! Ormai ci siamo, manca poco più di una settimana e inizierà una nuova edizione di Cosmoprof. Come ogni anno voglio proporvi dei contenuti per aiutarvi a vivere al meglio questa esperienza e ho deciso di concentrarli tutti in questa settimana. Ieri infatti sul blog ho pubblicato il primo post che riguarda l'organizzazione generale di questo Cosmoprof 2019 e poi ci saranno degli altri post sempre con gli appuntamenti della mia settimana, diciamo, di pubblicazione. Quindi uno sarà domani mercoledì, uno giovedì e uno sabato. Per quanto riguarda invece i video ci sarà quello di oggi che, come avete visto dal titolo, riguarda diciamo un'organizzazione sempre generale divisa tra sì, no e come. Tornerò un po' indietro nel senso che è un po' che non faccio un video relativo all'ABC, diciamo, per vivere Cosmoprof, ma come tutti gli anni ricevo varie domande. Io ho una playlist qui sul canale tutta dedicata a Cosmoprof, trovate tutti i video della mia prima partecipazione che ormai è quella di cinque anni fa ad oggi, potete vedere appunto quello che è cambiato, però capisco che tutti non abbiano magari voglia di guardare i vari video e ho deciso di raggruppare qui rispondendo un po' sia alle domande che ricevo più spesso, sia raccontandovi quello che ho capito io durante questi anni. Come appunto appena detto al mio quinto Cosmoprof quest'anno, il terzo anno che partecipo tutti i giorni, quindi dal giovedì al lunedì, ho ricevuto anche quest'anno l'accredito da parte di Cosmoprof come blogger, ovviamente ringrazio l'organizzazione appunto per la possibilità, mi ero già organizzata da mesi per stare cinque giorni a Bologna, quindi avrei ugualmente acquistato il biglietto ovviamente, però riceverlo in questo modo è normale che faccia piacere. Non ci dilunghiamo però con questi discorsi, partiamo subito e iniziamo dai sì. Una delle domande che ricevo più spesso è chi può partecipare, se possono partecipare tutti, se è solo una fiera per diciamo gli esperti, per gli alietti del settore, per barrucchieri, estetiste, titolari di bioprofumerie, profumerie e shop e tutte queste cose qua. In realtà Cosmoprof è una fiera solo per queste categorie, poi però negli anni si è davvero molto allargata, anche grazie social, grazie insomma ai contenuti proposti sul web, è stata sempre più conosciuta e quindi tante persone solamente appassionate hanno deciso di partecipare. La registrazione praticamente si fa online, quest'anno è cambiata, quindi secondo me è più mirata, perché ci si deve iscrivere per categorie e in base a quelle poi dopo viene appunto data la possibilità di acquistare il biglietto. In realtà non c'è nessuno agli ingressi che controlla a che categoria appartenete, secondo me sta al buon senso organizzarsi e decidere se andare oppure no. Quindi tornando ai nostri sì, direi assolutamente sì se siete una di queste categorie, quindi parrucchieri, estetiste, se avete un negozio, se volete aprire un negozio, se volete fare una selezione per ampliare o impostare i brand da voi rivenduti, quindi assolutamente. Se siete blogger che cercano nuovi brand da scoprire, nuove realtà poi da proporre durante l'anno, assolutamente, però senza perdere di vista quella che è davvero l'essenza della fiera, quindi il fatto che le aziende siano lì per cercare dei distributori. Secondo me è sempre importante non andare a interferire con questo aspetto. Sì, anche se siete appassionati, appassionati di beauty, appassionati di make-up, appassionati, ma molto, perché è una fiera pesante, dovrete camminare tanto, ci saranno dei momenti, soprattutto se sarà il primo anno che parteciperete, in cui non capirete neanche la vostra posizione all'interno della fiera e come andare da un padiglione all'altro, quindi davvero dovete avere una grande passione, altrimenti ci colleghiamo poi al discorso che faremo nei no. Direi sì, anche se siete degli abitué, diciamo, degli acquisti online per quanto riguarda accessori per unghie, nail art, se fate acquisti da siti cinesi, pennelli, accessori, oggettistica, perché davvero ci sono molte possibilità di fare acquisti di questo genere. C'è il padiglione del cash and carry, che dovrebbe essere il 35, dove potete fare acquisti di ogni genere, dagli accessori appunto di tutti i tipi, alle borse, alla pelletteria, insomma c'è un po' di tutto. Per me non vale la pena partecipare alla fiera per questo genere di aspetto, ma se voi invece avete, insomma, la voglia di vedere tutti questi articoli, che di solito è difficile vedere fisicamente, magari si possono solo acquistare online, potete pensare di partecipare. E' da considerare ovviamente il prezzo. Un giorno acquistato online costa 40 euro. Il fatto di andare una giornata è ovviamente vantaggioso, per quanto riguarda i costi, però secondo me è difficile riuscire a gestire una fiera di questo genere in una giornata. Però se uno va e dice, io voglio andare solo nel padiglione delle unghie, nel cash and carry ad acquistare, allora ci può anche stare. Questo è un aspetto magari che non avevo mai trattato, perché non mi riguarda, però pensandole in generale ci può stare. Per quanto riguarda invece un discorso più generale ancora, sì assolutamente all'organizzazione. Andateci organizzatevi. Che il vostro sia appunto uno scopo di scoprire nuove aziende, che sia di fare shopping in questa categoria, perché poi ci sarà anche un altro discorso da fare, organizzatevi. Sfruttate la lista degli espositori che c'è sul sito. Quest'anno è più facile consultarla. Si possono anche segnare mettendo tra i preferiti alcuni brand, in modo poi da averli tutti nella proprio in una categoria, diciamo in una sezione a parte. Purtroppo non sono filtrati per padiglioni o per settori, quindi verranno mescolati. Sta a voi seguire una logica per averli un po' più chiari, però sicuramente è più comodo. Un altro si riguarda la gestione, diciamo il come girare all'interno della fiera. Questo è un consiglio che io ho avuto da Laura, Felosile 83, a cui mando un bacione che ancora ringrazio, perché quando io girai con lei il primo Sana, con la mia amica Sara, ci appunto consigliò di fare questo giro a serpentone. Quindi di girare prima tutto all'esterno e poi all'interno dei settori e dei padiglioni stessi, con davvero una facilità di non perdere nulla, se come me magari volete scoprire nuovi brand e volete avere una visione diciamo generale, per selezionare quelli che avevate già scelto, senza perdervi nulla. Perché saltare da una parte all'altra rischia di fare molto caos. Quindi grazie Laura, io seguo sempre il tuo consiglio e mi sento anche di consigliarlo a chi vuole un'esperienza simile appunto. Un altro sì riguarda assolutamente i biglietti da visita, ve l'ho detto io li ho fatti dal primo anno, è stata una scelta sicuramente saggia, perché come dicevo prima le aziende sono lì per cercare distributori, quindi è normale che la prima domanda che vi faranno sarà di cosa ti occupi, perché vogliono capire subito con chi stanno parlando. Il fatto di rispondere e di essere blogger può portare a varie reazioni, ma quello dipende dall'azienda, avere il biglietto da visita può aiutare, perché non viene chiesto subito di solito, a volte sì, però sul finire diciamo della conversazione che avete avuto allo stand può capitare molto spesso che l'azienda vi dia il proprio biglietto da visita e voi ovviamente in questo modo potete ricambiare avendolo con il vostro. È sicuramente un modo per far capire che la vostra attività la state facendo in maniera professionale e dando anche tutti i vostri recapiti, i vostri riferimenti, in modo che l'azienda possa guardarvi, possa scoprire quello che fate e possa poi valutare eventualmente di contattarvi. Passiamo ai no. Non vi consiglio di andare in fiera se siete appassionati di make up e di beauty, nel senso che vi piace andare nei negozi, vi piace truccarvi, vi piacciono i prodotti, però un po' finisce lì. Non è un giro in centro, non è un giro al centro commerciale, è un'esperienza impegnativa, faticosa, che potrebbe anche lasciarvi insoddisfatti, perché non ci sono i brand di make up o beauty noti al grande pubblico, alcuni sì ci sono, ma spesso quelli hanno degli espositori che potete trovare anche in un negozio, quindi non vi danno niente in più rispetto a quello che potreste avere appunto andando in uno store. Non vi consiglio neanche di andare in fiera se volete fare shopping, in generale, perché non si fa shopping. Generalmente, si è vero, il lunedì tante aziende vendono per alleggerirsi, diciamo, per il ritorno, quindi per svuotare gli stand, ma durante la fiera, soprattutto i brand appunto che sono lì, direi quelli skin care, che vogliono appunto trovare dei distributori e vogliono proporsi sul mercato, non vendono assolutamente. Quindi lo shopping va a ridursi ai settori che ho citato prima nei sì, unghie e cash and carry. Un altro no è andare senza un'organizzazione. Ho già fatto tutto l'altro discorso, quindi avete già capito. Se andate così, ma si dai ci passi a una giornata, secondo me non vale assolutamente la pena. Poi per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole. Se la prendete proprio in allegria, avete 40 euro da buttare o più, ci sta. Io non penso che sia una buona idea, però poi dopo ognuno fa quello che vuole. Fatemi vedere quello che mi ero segnata. Sì, no? Ah, due cose ancora. Una, non dire ripasso, nel senso che se volete visitare uno stand, un brand, vedete che magari ho un po' affollato, di te ripasso dopo, no. Vi conviene rimanere in zona e ripassare in breve tempo, quindi rimanere nello stesso padiglione, fare un giro, finire il giro e poi tornare. Non andare da un'altra parte per poi dire ripasso, perché davvero le distanze ci sono, tra un padiglione l'altro, c'è parecchia distanza in alcuni casi e spesso ritornare diventa difficile. Quindi cercate di rimanere l'intorno e ripassare in breve tempo. Sempre riguardo il fatto appunto che dicevo, se vedete che a uno stand sono occupati, valutate. Valutate nel senso che abbiate buon senso e non interferite. Non interferite se vedete ad esempio che a uno stand sono i responsabili o che per loro sono seduti ai tavolini a parlare con delle persone, non piazzatevi lì per chiedere appunto informazioni, perché molto probabilmente stanno creando dei contatti, stanno facendo quello per il cui loro sono lì. Quindi non interferite. Ricordate sempre che è una fiera per fare in modo che i brand trovino dei distributori e trovino delle possibilità di espandersi. È bello che la fiera sia sempre più adatta e aperta a tutti, ma non dobbiamo fare in modo che questa miglioria, diciamo, questa evoluzione vada a interferire con il vero scopo della fiera. Quindi avere rispetto e non interferire. Passiamo adesso al come. Questo video sarà lunghissimo, mi dispiace, ma meno di così, non ce la posso fare. Direi assolutamente organizzati, comodi, pratici, con cibo, acqua, caramelle, tutto quello che può servire, insomma vicino a voi, a portata di mano, in modo da non avere nessun tipo di problema. È normale che ogni anno partecipando si può capire qualcosa in più e ci si può organizzare sempre meglio perché l'organizzazione non ha mai fine. Però partire insomma dall'ABC aiuta. Io ho fatto degli anni di fiera anche sana, non solo Cosmoprof, dove non sono passata dal bagno, dove in alcuni casi non ho mangiato, ma non è da fare così. Però in ogni caso anche se ci sono dei momenti concitati, se una giornata, magari la vostra prima giornata diventa più impegnativa del previsto, dovete avere tutto con voi per riuscire a essere autosufficienti e riuscire ad affrontarla diciamo al meglio. Io soprattutto nei giorni di fiera ricevo sempre la stessa domanda, ma anche più volte, anche mentre sono in giro col telefono in mano per fare le stories, ricevo sempre la domanda, ma come fai ad essere considerata, a farti considerare dalle aziende? Io ho sempre risposto, ve lo dico molto chiaramente qui, quest'anno se mi farete questa domanda io non risponderò più. Ve lo dico qua, vi racconto qui quello che io faccio e quello che secondo me è giusto fare. Io non ho nessun modo particolare, il mio consiglio è di essere voi stessi. Dovete portare quello che siete, approcciarvi alle aziende come poi vi approccerete nel caso ci sarà una collaborazione o potrete continuare il rapporto. Io sempre vado dalle aziende, dai brand che ho selezionato di cui voglio sapere qualcosa proprio per sapere qualcosa. Io inizio sempre chiedendo se mi possono raccontare cosa fanno, come la loro realtà, se ho già provato qualcosa faccio appunto riferimento a quei prodotti, se ho visto qualcosa sul loro sito faccio riferimento a quello e secondo me, dal mio punto di vista, quella è la maniera migliore per avere un buon approccio con l'azienda. Non sempre vincente, c'è chi non ha voglia perché cerca solo distributori e i blogger, le blogger, insomma youtuber, tutto quanto, non ha nessuna intenzione di calcolarli e magari vi risponde più o meno male, ma facendovi capire che aria è meglio che ve ne andiate e ci sta, nonostante la vostra gentilezza e la vostra buona predisposizione. Tendenzialmente però devo dire che questo approccio aiuta tantissimo, io mi trovo a parlare veramente tanto 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 agli stand, in alcuni casi magari anche troppo perché arrivo a sera che sono morta, però mi piace tantissimo, è quello che mi piace e da lì si crea appunto un bello scambio, l'azienda vede che davvero c'è interesse, che vede che siete preparati e tutto ha delle basi comunque migliori. Ovviamente questo lo dovete fare se questo è il vostro approccio, se siete invece le blogger o le persone che sono arrivate lì solamente per volere un campioncino e dicono avete campioncini o arraffano tutto quello che c'è là, io non posso darvi assolutamente consigli, quindi spero di essere stata chiara, io direi assolutamente siate voi stessi, poi come va? Va! Un altro consiglio, ne ho ancora due e poi ci siamo, direi per girare al meglio, per non fare passi 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 inutili, per non perdersi e non innervosirsi, prendete come punto di riferimento il centro servizi. Il centro servizi è l'unico spazio in cui ci sono indicati tutti i riferimenti dei diciamo padiglioni e dei settori, quindi vi dirà tipo dal 21 al 24, dal 30 al 35 e sapete in che direzione andare. Se uscite dai padiglioni andando a attraversare da uno all'altro rischiate molto di più di fare dei giri a vuoto. Io il primo anno l'ho già raccontato in video, aprivo le porte, facevo chilometri e mi trovavo più o meno sempre nella sesta zona. Mi sembrava anche impossibile ma era così. Quello vi fa davvero innervosire a un certo punto e vi viene voglia di lasciare andare tutto e dire basta me ne vado a casa e è davvero un peccato. Invece con il centro servizi come riferimento. Magari in alcuni casi farete leggermente più strada per andare al centro servizi, ma poi sarà un percorso che recupererete tagliando diciamo dopo. Spero di essermi spiegata. Altro consiglio, se viaggiate in treno, se avete un treno da prendere, anticipatevi sull'uscita. Soprattutto il venerdì, perché se l'andata in una ventina di minuti dalla stazione è arrivata in fiera, non è così al ritorno. Io ho perso vari treni uscendo magari 40 minuti prima dalla fiera perché c'era un traffico, erano bloccati nel traffico. Il venerdì soprattutto è il giorno peggiore. Io ho sempre impiegato circa un'oretta a ritornare e ho dovuto sempre considerare appunto questo. Soprattutto vi parlo se avete un treno come avevo io alle 18.30 perché è l'orario della fine della chiusura degli uffici, della gente che torna a casa e è davvero un casino. Magari prima e dopo non avete problemi, però considerate questo. Io spero di aver detto tutto quello che volevo. Fatemi vedere se mi ero segnata qualcos'altro. No, direi di aver tutto qui. Io sono pronta anche per quest'anno. Devo ancora finire un po' la selezione dei brand che vi proporrò nel prossimo video. Per quanto riguarda il mio girare in fiera, vi ho già detto qualcosa, il mio approccio sarà sempre quello perché io sono così. Io in fiera mi carico davvero tantissimo. Arrivo la sera che sono cotta, però cioè ripartirei perché mi piace. Quello vi aiuta tantissimo. Se come me siete appassionate di beauty, se volete soprattutto scoprire nuove realtà anche particolari, è veramente il paese dei balocchi. E questo traspare, questo viene visto comunque dalle aziende che è normale, possono essere più predisposte a parlare con voi. Io non vado per cercare collaborazioni, non mi sono mai proposta per collaborazioni alle aziende. Ho sempre pensato che questa sia un'occasione per conoscere e capire. Questo è stato il mio primo anno in cui davvero ho lavorato come beauty blogger. Prima è sempre stata solamente una passione. Quest'anno ho iniziato a fare proprio dei lavori e ho capito anche tante cose. Ho capito che io ho un entusiasmo che da una parte mi aiuta tantissimo, ma da un'altra parte mi frega perché magari ci metto troppa la enfasi e poi quello che sembrava inizialmente poi non è. Non so se mi sto spiegando. Devo frenare questo aspetto e lo frenerò. L'avevo già detto l'anno scorso che magari avrei condiviso meno dalla fiera, poi una volta che sono entrata non ce l'ho fatta e vi ho fatto vedere praticamente tutto il percorso che ho fatto. Non dico che quest'anno non lo farò, vi terrò come sempre partecipi su Instagram, quindi mi raccomando seguitemi, vi lascio il nick qui perché se vi interessa da lì troverete appunto tutti i miei giri, ma con una selezione in più. Una selezione in più perché proprio visto questo percorso, visto come stanno andando le cose, voglio anch'io selezionare un po' di più, voglio prendermi del tempo per capire poi se davvero le realtà possono essere a me affini e non dare in un certo senso visibilità a tutti così tanto per, perché trovo che in un certo senso non sia giusto. Non vi dico che non vi farò vedere qualche brand che mi sembrerà interessante e poi non si rivelerà tale. Tante volte capita che mi possa sembrare un'azienda per una presentazione, per uno stand che magari particolarmente mi colpisce, mi possa sembrare super wow, poi in realtà approfondendo inci, approfondendo cose, mi rendo conto che non è così, o anche magari approfondendo quello che può essere il modus operandi dell'azienda. A volte me ne rendo conto subito, magari leggendo gli inci che sono il contrario di quello che mi è appena stato spiegato, lo faccio notare, mi prendo anche delle occhiatacce e finisce lì. Però non sempre può essere, non sempre magari c'è la possibilità e a volte quell'entusiasmo di cui parlavo non mi porta magari a controllare. Adesso a freddo vi posso dire questo non lo farò, ma so che probabilmente non sarà così. Quindi cercherò di selezionare un po' di più. Selezionerò anche per il discorso che condividere sui social, condividere qui è positivo, ma non va neanche sempre troppo bene, perché lo dico senza troppi problemi. Io dare quello che può essere un mio lavoro, una mia selezione, impasto tra virgolette a chi viene qui solamente per i video di Cosmoprof, perché io li risolvo in un certo senso la visita, non mi va. Mi dispiace magari di togliere qualcosa a chi mi segue tutto l'anno, però poi ci sarà modo. ci sarà modo perché io come sempre vi racconterò piano piano le varie cose, nel bene e nel male, vi farò sapere le mie opinioni sui prodotti, sugli aziende e tutto, però diciamo andare ad aiutare chi magari da una parte prende il mio lavoro come molto positivo e dall'altra poi però si rende conto che cavolo questa ci sa fare, cerchiamo anche magari un po' di mettere le bastioni tra le ruote, anche no. Io spero di essermi spiegato, ho fatto tantissimi discorsi, ho parlato un sacco, scusatemi, ma spero che questo video in un certo senso vi sia stato utile e vi sia utile. Se starete in fiera, fatemi sapere quando, se volete insomma farmi un saluto, se mi incontrate, fermatemi che mi fa sempre tanto tanto piacere. Non farò incontri, non darò appuntamenti perché davvero il tempo è prezioso in fiera e soprattutto tante volte non si riescono a calcolare le tempistiche, quindi dare un appuntamento e poi magari essere da qualche parte con l'ansia, oddio devo correre e l'ansia magari di non arrivare a rispettarlo, non mi piace. Io credo che mi prenderò sabato come giornata per gli appuntamenti in generale perché alcune aziende mi hanno contattata per appunto avere dei momenti in cui poter parlare e io sono molto contenta e sicuramente lo farò, visto che tante mi hanno proposto o venerdì o sabato o sabato e domenica, probabilmente il sabato sarà la mia giornata, quindi se riuscirò in quel giorno insomma a incontrare qualcuno di voi mi farà piacere, ma non do appuntamenti perché probabilmente non sarà fattibile. Se però mi vedete ripeto salutatevi perché a me fa sempre tanto 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 piacere. Basta scappo, non parlo più, ci vediamo venerdì con gli stand da non perdere e quello che dovete assolutamente vedere. Un bacio e fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Ciao!